Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kiryu 1984. Oggi vi farò vedere quelle che sono le letture che ho fatto nel mese di agosto per quanto riguarda i fumetti occidentali e i graphic novel. Partiamo da Senza Limiti di Gillian Tamaki per Coconino Press al costo di 24€. Gillian Tamaki fa parte di un duo, quello con sua cugina Mariko Tamaki che aveva prodotto un ottimo fumetto che mi era piaciuto tanto, la chiamavano estate, uscito qualche tempo fa per Bao Publishing e quindi mi sono avvicinato molto curiosamente anche a questo Senza Limiti, che devo dire però è un qualcosa di completamente diverso rispetto all'opera precedente che avevo letto, che era seppur un'ottima opera sempre comunque indirizzata verso un pubblico di ragazzi, di adolescenti principalmente, mentre invece questa si apre subito come un'opera molto più matura, molto più artistica, tra virgolette se vogliamo, infatti vediamo già la sequenza d'apertura che ha ben altre pretese rispetto insomma al fumetto per ragazzi, un modo di introdurre molto molto particolare e anche la storia che andiamo a seguire è decisamente particolare. Infatti nel mondo normale, dove ci troviamo tutti, vediamo succedere delle cose alquanto strane. In una delle storie presenti nel volume, che è diviso appunto in diverse storie, ad esempio troviamo dei cloni su Facebook, quindi dei cloni delle normali persone e delle normali persone che si scopriranno molto più appassionati a seguire le vicende di questi cloni su Facebook che la loro vera vita. E poi tante storie diverse, storie di vita vissuta, storie disegnate con i più diversi stili grafici vi faccio vedere qualcosa delle tavole perché sono molto particolari e belle qui vediamo uno stile, anche sembra qualcosa in bicromia qui vediamo uno stile molto simile per certi versi anche al manga autoriale infatti a me questa immagine ha ricordato molto Shuzo o Shimi quindi diverso non solamente per quanto riguarda proprio le caratteristiche di ogni singola storia ma anche appunto nello stile di disegno ecco, anche qui vediamo infatti uno stile completamente diverso da quelli visti prima quindi davvero un compendio di opere molto molto originali e strane che mi fa conoscere un lato di Gillian Tamaki che non conoscevo assolutamente quindi molto molto consigliato e l'ho apprezzato tanto poi ho letto La Sala da Te dell'Orso Malese di David Rubin che mi è piaciuto ma sicuramente molto molto meno infatti non lo consiglierei fra le sue opere ne ha fatte sicuramente di migliori ed è appunto la storia di questa fantomatica sala da te che però in realtà è più un consultorio perché vedremo gente di tutti i tipi chiaramente passare da questa sala da te e il proprietario fare un po' da psicologo per tutti i loro problemi personali e quant'altro ripeto, carina, lo stile di disegno di David Rubin che qui se non sbaglio era comunque all'inizio si fa già notare, si faceva già notare all'epoca come uno stile molto molto particolare e soprattutto originale però nel complesso diciamo che non è riuscita questa raccolta di storie a prendermi più di tanto nonostante ci siano alcune storie più carine, altre meno anche qui infatti comunque si tratta di storie autoconclusive e a sé stanti seppur tutte facente parti di questa cerchia di storie raccontate o comunque che si muovono nelle vicinanze di questa sala da te dell'orzio malese poi ci sono un paio di novità per Jeff Lemire la prima è una vera e propria novità e il secondo è un secondo volume appunto scusate la ripetizione e la prima è Quantum Age pubblicata da Bob Publicic a 19 euro uno spin off dal Fantastico Mondo di Black Hammer tutti quelli che amano i supereroi dovrebbero leggerlo lo leggo anch'io che i supereroi non li amo affatto qui coadiuvato dai disegni di Wilfredo Torres e Jeff Lemire che come sempre si occupa della sceneggiatura e di questo ne sentirete parlare o ne avrete già sentito parlare in base alla programmazione del video nello speciale proprio su Jeff Lemire e anche di Gideon Falls stessa cosa ne sentirete parlare appunto in quel video ho parlato del primo volume in altri video acquisti e mi sembra davvero un'opera che sta procedendo molto molto bene un'opera abbastanza orrorifica di Jeff Lemire un tema, un genere sul quale non si era cimentato più di tanto fino ad ora anzi e gli ottimi, ottimi disegni di Andrea Sorrentino devo dire che danno davvero un tocco in più a quest'opera che fa di queste tavole anche molto alluscinate uno dei suoi punti di forza poi ho letto Fake News questo mega volumone cartonato di Manu Larsenet un autore che avevo già apprezzato tantissimo in altre sue opere come Blast e Lo scontro quotidiano soprattutto queste due poi ce ne sono altre molto molto belle e già dal titolo qui capiamo di cosa si tratta più o meno, infatti non è una vera e propria storia a fumetti ma bensì delle tavole di illustrazione come questa che accompagnano appunto delle Fake News Fake News create totalmente ad hoc dall'autore per questo volume ma che effettivamente ci fanno capire quanto poi alla fine non sia così incredibile il fatto che qualcuno ci creda anche se chiaramente di solito sono i più ignoranti perché effettivamente queste Fake News possono essere scritte bene possono essere scritte più che altro in modo realistico ecco e quindi il nostro autore Manu Larsenet ci mette davanti proprio di fronte a questo con la sua solita ironia ironia molto tagliente, pungente sicuramente non allegra ecco lui è un autore non particolarmente allegro ma è uno di quelli che come me rimugina tanto sulle cose sulle cose che succedono al mondo e che credo lui vorrebbe andassero diversamente e poi i suoi disegni sono davvero splendidi come potete vedere quindi consigliatissimo anche questo soprattutto però ai fan di Manu Larsenet in quanto non è un volume così facile ecco magari per uno che si approccia per la prima volta al fumetto poi ho letto il mio primo fumetto Marvel in assoluto sicuramente da bambino avrò letto qualche cosa dei supereroi Marvel ma è la prima volta da quando leggo seriamente fumetti che leggo qualcosa della Marvel ed è la Visione 1 e 2 che mi sono stati regalati da un fan del canale e che è anche un amico diventatelo in seguito alla frequentazione che abbiamo avuto a Luca Comics e che colgo finalmente l'occasione di ringraziare anche in video e quindi grazie Claudio, Arlok e il suo nickname qui su YouTube che proprio a Luca 2018 mi regalò la Visione la Visione è di Tom King e Gabriel Hernandez-Walta e narra appunto una storia di Visione che è questo Avengers fa parte degli Avengers scusate se dirò qualche cavolata ma io come sapete non ne capisco granché di supereroi anzi zero però questa non è una storia di supereroi è la storia di come Visione cerchi di diventare lui che è un sintezoide una cosa del genere quindi una sorta di cyborg umano sintetico, cibernetico comunque e che cerca di vivere una vita da essere umano più o meno, per quanto possibile questo suo provare a vivere una vita da essere umano però ci mette di fronte al problema dell'integrazione al problema dell'accettazione al problema del rispetto verso gli altri verso i nostri vicini verso chi non si conosce soprattutto verso chi non si conosce perché l'ignoranza e la cattiveria di solito vengono rivolti soprattutto a ciò che non si comprende a ciò che l'animo e soprattutto il cervello molto limitato di alcune persone non comprendono e Tom King ci mette di fronte quindi proprio a questo soprattutto anche dovuto al fatto che Visione avrà anche dei figli anche se costruiti da lui stesso come sua moglie e sarà soprattutto attraverso di loro che vedremo questi problemi di accettazione da parte degli umani verso questa razza diversa ecco se vogliamo usare una parola terribile e soprattutto per niente corretta ma questo è alla fine per far capire più a livello generico e infatti qui vediamo proprio una delle immagini più cruente quando qualche testa di cazzo intollerante aveva scritto proprio sul loro garage sulla porta del loro garage Go Home Socket Lovers ovvero tornatevene a casa fotti prese quindi una miniserie in due volumi che mi è piaciuta davvero davvero tanto e ero rimasto nell'ignoranza finora di non aver letto mai niente di questo tipo a parte qualche graphic novel con protagonisti di supereroi che bene o male è la cosa che più ci si avvicina e penso che sicuramente ci sarà qualcos'altro da recuperare non credo che diventerò un amante dei supereroi dall'oggi al domani ma qualcosa di questo genere la leggerei molto molto volentieri poi ho letto sicuramente un classico che mi mancava assolutamente mea culpa ed è Una ballata del mare salato di Hugo Pratt con protagonista ovviamente il suo personaggio più famoso ovvero Corto Maltese al costo di 30 euro per Rizzoli Lizard non conoscevo assolutamente il personaggio lo conoscevo chiaramente di vista come si suol dire esteticamente sapevo ovviamente chi era Corto Maltese ma non avevo mai letto nulla di suo e sono stato piacevolmente sorpreso da questa lettura pur notando secondo me che gli anni si fanno molto molto sentire ecco a differenza magari di autori di alcuni autori giapponesi o americani quello che ho notato io in particolare sugli autori italiani spesso non per tutti ad esempio per Andrea Pazienza non è così che si fanno un pochino sicuramente notare gli anni gli anni che sono passati dalla prima pubblicazione di quest'opera però rimane comunque leggibilissima godibilissima e anzi molto molto godibile anche oggi questa storia che si svolge principalmente in Mare Aperto dove Corto Maltese viene recuperato e dopo di lui vengono recuperati anche due ragazzi che poi avranno l'attenzione principale in quest'opera in quanto potrebbero essere fonte di scambi fonte di guadagni comunque illeciti voluti da colui che sta insieme a Corto Maltese Corto Maltese però sarà sempre un po' dalla loro parte un po' dalla parte di quest'altra persona non si capirà quasi fino alla fine per sua volontà chi vorrà aiutare anche se poi chiaramente Corto Maltese sarà dalla parte del giusto poi una delle pochissime opere che mi mancavano di Will Eisner credo di aver completato tutte le opere pubblicate in Italia di Eisner ed è l'ultimo giorno in Vietnam pubblicato da 001 edizioni al costo di 16 euro questo libro nasce appunto dall'esperienza personale e diretta vissuta da Will Eisner nell'esercito prima come soldato durante la seconda guerra mondiale e poi come reporter e soprattutto come direttore del giornale dell'esercito degli Stati Uniti PS Magazine che ha diretto per tantissimi anni e anche in Italia è uscito per Baopublishing un volume che seleziona le cose migliori apparse su quella rivista e quindi qui vediamo tutta la sua esperienza quello che è stato quello che ha visto più che altro quello che ha ritenuto più importante di riportare dagli altri soldati dai racconti dei soldati dei generali e di quant'altri si trovassero in questi territori che erano chiaramente il Vietnam la Corea facendo tutto questo alla veneranda età di se non sbaglio 83 anni quindi qualche anno prima che questo grandissimo grandissimo autore ci lasciasse e per essere una storia di un uomo di 83 anni devo dire che ha anche le sue innovazioni infatti vediamo per esempio nella prima storia seguiamo il protagonista come se fossimo proprio in prima persona e altre trovate grafiche sicuramente anche già viste in alcuni casi quindi senza che inventasse nulla che però risultavano incredibili fatte con tale maestria da uno che è sì un maestro del fumetto ma appunto 83enne e infine sempre di Manu L'Arsenet ho letto La linea del fronte un'avventura rocambolesca di Vincent Van Gogh e questa è l'unica serie di Manu L'Arsenet che non mi sta piacendo che non mi sta convincendo più di tanto dico serie perché sono 5 biografie fantastiche che illustrano la realtà contraddittoria che ci circonda e in questo particolare caso vediamo come Vincent Van Gogh secondo la mente creativa di L'Arsenet non sia morto nel 1890 come tutti ricordavamo e lo ritroviamo nelle trincee della prima guerra mondiale quello che non mi sta piacendo in questo progetto di Manu L'Arsenet oltre forse ai colori a volte anche troppo vividi che mal si adattano spesso alle sue atmosfere anche se qui probabilmente comunque cercano di ricalcare un po' quello che era lo stile del pittore Van Gogh anche il fatto che non comprenda tanto il voler raccontare delle storie inventate di personaggi famosi messi in situazioni un po' così casuali un po' random e quindi devo dire che non mi ha preso è strano perché Manu L'Arsenet lo adoro però ci sta ovviamente che nella produzione anche abbastanza grossa di un autore come L'Arsenet ci sia qualcosa che non mi piace e questo è quanto per questo video fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo sui social iscrivetevi attivando le notifiche per non perdere neanche un video aprite il box informazioni molto molto importante noi ci vediamo alla prossima e ciao